Ieri mattina lo splendido e suggestivo Lago di Mergozzo si è tinto dei colori delle quasi 500 cuffie e delle boe di sicurezza dei partecipanti alla diciottesima edizione della traversata a nuoto del lago, dedicata all'amico scomparso Luca Dresti. La manifestazione è stata organizzata dall'ASD Dimensione Sport in collaborazione con l'amministrazione comunale di Mergozzo ed inserita nel circuito Nobili dei Laghi, voluto da Giampiero Sblendorio, presidente dell'ASD. La motivazione principale di questo circuito, ha spiegato Sblendorio, è stata quella di evitare la sovrapposizione degli eventi e dare al contempo visibilità ai luoghi. Anche questa edizione è stata veramente un grande successo che ha visto ben 480 nuotatori partire dalla spiaggetta della Rustica. È stato possibile garantire una giornata di sport e svago in assoluta sicurezza grazie anche all'adeguato supporto dei natanti che hanno garantito la sicurezza dei nuotatori. Alle ore 11 con la classica tromba da stadio è stato dato il segnale di via. I primi atleti si sono subito distinti per le loro capacità distanziando il resto del gruppo. Il ritmo della gara è stato elevatissimo ed il primo classificato che ha toccato la riva della piazza di Mergozzo nella categoria maschile è stato Giovanni Brazzale che ha percorso il tratto di lago in 27 minuti e 24 secondi. Alle sue spalle Daniele Savi ha staccato di soli 5 secondi. Terzo Riccardo Conte in 27 e 33. La prima classificata nella categoria femminile Jael Fusato ha chiuso la propria fatica in 29 minuti e 2 secondi. Seconda Sofia Ceresa in 29 e 30. Terza Rossella Bellomi in 30 e 18. Il più giovane partecipante Lorenzo Sacchi nato il 27 giugno del 2007. Il meno giovane invece Roberto Conte dell'8 aprile 1940. L'ambito trofeo Luca Dresti è stato invece consegnato dai genitori di Luca al presidente Stefano Trettin del gruppo Swimmer Inside che è stata la società più numerosa all'evento. Le traversate a nuoto in acque libere e il commiato del presidente Sblendorio stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Mergozzo devono rappresentare un momento di incontro dove competizione e solidarietà si uniscono.